. Simone Izzo si sente male in studio, cosa è successo al GF VIP? . . Grande fratello VIP, Simone Izzo entra in studio e si sente male. Simone Izzo è stata leliminata della puntata di stasera del Grande fratello VIP, e come ogni eliminato ha fatto il suo ingresso in studio da Ilari Blasi. . Tuttavia, appena si è alzata la porta che la divideva dallo studio, Simone è sbiancata e ha chiesto aiuto ad Alfonso Signorini. . 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 Emoziona il grande fratello VIP e rischia lo svenimento. Simone Izzo è quindi riuscita a raggiungere il centro dello studio del grande fratello VIP grazie all'aiuto di Alfonso Signorini, dove ad attenderla vi era Ilari Blasi. Il direttore di Chi ha voluto comunque elogiarla, affermando che lei è una donna che si è sempre messa in discussione all'interno della casa, e che non è affatto facile trovare dei concorrenti intellettualmente stimolanti come lei. Della medesima opinione non è stato comunque Marco Predolin, il quale l'ha duramente criticata e l'ha presa persino in giro. Il conduttore radiofonico si è addirittura alzato e ha finto il presunto svenimento della ex compagna di avventura, alla fine si è gettato per terra, ottenendo però solo i fischi del pubblico. Il concorrente squalificato dalla casa durante la scorsa puntata ha di nuovo sottolineato quanto Simona sia stata falsa all'interno del reality e non si è smentita nemmeno questa volta. Mettendo in atto quello che lui ha chiamato con il sostantivo teatrino. Alla fine, è stata la regista stessa a voler fare pace con Predolin, avvicinandosi e cercando di dargli un bacio sulla guancia, cosa che però non ha trovato una risposta positiva da parte del conduttore. Alla fine. Ciao